benvenuti e benvenuta crime out case di cronaca nera raccontati da persone autistiche ciao io sono erica ciao io sono silvia ciao io sono matta non c'è franca stasera forse arriverà ma se vi aspettavate franca stasera non c'è nella nostra intro benvenuti a tutti e a tutte siamo al quinto episodio sul caso di erba l'ultimo episodio era concluso con interrogatori e confessioni di rosa olindo confessioni che abbiamo visto molto estorte in maniera poco pulita diciamo così che ci hanno fatto sorgere molti dubbi per come sono state condotte anche ma gli inquirenti prendono per buone queste confessioni e dunque si arriva al processo e anzi ai processi e qui lascio la parola ad erica vai erica allora si parte innanzitutto volevo dire che mi sta piacendo tantissimo l'interazione che stiamo avendo con chi ci ascolta con i commenti quindi bravi grazie mi sembra che ci sia proprio tanta voglia di capire di discutere no e secondo me questo alimenta un po' anche noi la voglia di andare a fondo tra le cose che ho notato ho notato che ci sia anche tanta voglia di parlare di fatti essendo questo un caso in cui comunque si può spaziare molto tra le opinioni si può ragionare ho notato che molte delle persone che ci stanno ascoltando vogliono precisione vogliono sapere esattamente che cosa è stato definito che sia successo e quindi io vi voglio accontentare di conseguenza mi sono diciamo scaricata tutte le sentenze sono andata a ripescare dei recap su ciò che è stato e quindi stasera innanzitutto appunto vi faccio questo breve riavvolgimento molto sintetico di tutti gli eventi e poi parliamo appunto della ricostruzione ufficiale riguardo proprio alla questione Rosa Olindo cioè cosa hanno fatto e cosa è stato ritenuto accreditare loro vi preannuncio anche un segmento nell'intermezzo perché analizzeremo le trascrizioni di Olindo sulla Bibbia quindi partiamo signore mie che dite vai vai Erika allora ricappone sulle sentenze ve lo leggo proprio direttamente quello che è stato definito che è successo alle ore 20 e 30 circa dell'11 12 2006 in in erba nella corte di via diaz 25 intervenivano i vigili del fuoco allertati da altri abitanti della stessa corte in quanto nello stabile sito al predetto indirizzo si era verificato un incendio all'interno dell'appartamento sito al primo piano erano rinvenuti i corpi straziati a colpi di spranga e coltellate di Raffaella Castagna Giuseppe Marzuc e della madre Paola Galli sul pianerotto dello stesso piano vi era Mario Frigerio occupante l'appartamento al piano di sopra gravemente ferito mentre all'interno dell'appartamento dei Frigerio vi era il cadavere di Valeria Perubini moglie della persona ferita anch'essa colpita dai innumerevoli colpi di coltello in tutto il corpo al ballabio intervenuto immediatamente dopo il Frigerio per due volte aveva cercato di indicare di andare al soccorso della moglie al piano superiore sia il ballabio che il bartesaghi avevano potuto udire le flebili invocazioni di aiuto della Cherubini peraltro il ballabio dopo aver tentato di salire al piano di sopra aveva desistito per il troppo fumo quando era stato possibile entrare nei due appartamenti i vigili del fuoco avevano trovato al primo piano i corpi della Castagna della Galli e del piccolo Youssef mentre al secondo piano avevano rinvenuto Valeria Cherubini che era in posizione genuflessa in una pozza di sangue le indagini si indirizzavano in due direzioni verso possibili coinvolgimenti di familiari delle vittime e verso soggetti che in passato avevano avuto diverbi con le stesse per la prima direzione i carabinieri procedevano a sequestrare i mezzi di trasporto usati da Azuz Marzuc marito della Raffaella e quella sera assente e da perquisire l'alloggio dei suoi familiari. L'esame degli altri abitanti della corte non aveva dato spunti interessanti per le indagini mentre l'attenzione veniva diretta nei confronti di Bazzi Rosa e Romano Lindo. Allora a questo punto noi ci risparmiamo tutte le questioni relative ai comportamenti sospetti, la lavatrice in funzione, lo scontrino, queste sono tutte cose che sono state scritte in sentenza ma che noi abbiamo già analizzato molto, le famose chimosi, ne abbiamo parlato tanto. Per chi non lo sapesse noi vi invitiamo con questo un recappone delle sentenze però non abbiamo parlato, quindi andatevi a sentire gli altri episodi. Uno dei reperti prelevati dall'abitacolo della vettura portava ad evidenziare il profilo genetico complesso costituito da una componente maggioritaria sovrapponibile al profilo genetico di Valeria Cherubini e inoltre Mario Frigerio sentito più volte con difficoltà a causa delle sue precarie condizioni fisiche aveva riconosciuto in Olingo Romano il suo aggressore. In data 8.1.2007 quindi si procedeva al fermo dei due incutati che inizialmente professavano la loro innocenza ma in data 10.1.2007 rendevano ampia confessione, poi ritrattata in odienza dipattimentale rendendo spontanee dichiarazioni assumendo che essi avevano confessato a seguito di prospettazione di fortissimi sconti di pena, di avere incontri tra di loro durante la detenzione e di impunità per uno dei due. La prima da essere interrogata era stata Rosa Bazzi che si era assunta la responsabilità di tutti gli omicidi tentando di scagionare il marito che l'avrebbe solo aiutata ad appiccare l'incendio e ad aggredire il Trigerio. Romano dopo aver appreso che la moglie aveva confessato scagionandolo rendeva al PM una versione diversa a sua volta assumendosi la responsabilità di tutto quanto successo producendo una ricostruzione dei fatti giudicata dalla corte di Assise inverosimile perché una persona sola non avrebbe potuto portare a termine tutti gli omicidi tanto più che egli non sapeva riferire quanto poi risultava essere stato compiuto dalla moglie. Dopo la duplice confessione i due imputati avevano colloquiato non accennando mai a pressioni ricevute da alcuno ed anzi programmavano la loro vita in carcere o avrebbero avuto la possibilità di incontrarsi esprimendo fiducia nelle occupazioni che avrebbero potuto svolgere. In data 12.01.2007 avanti al GIP confermavano le loro ammissioni di responsabilità. Ancora il 6.06.2007 Rosa Bazzi chiedeva di essere interrogata ribadendo quanto era successo anche se aggiungeva che il tutto era avvenuto per colpa di Mazouk che aveva abusato sessualmente di lei. E fino a qua. Abbiamo concluso praticamente in cinque minuti abbiamo fatto un riassunto di cinque episodi. Fermiamoci un attimo. Noi le volte scorse appunto abbiamo parlato delle prove. Le abbiamo analizzate però non abbiamo analizzato una cosa. Non abbiamo analizzato la Bibbia perché c'è quest'altra componente che manca nel nostro racconto che peraltro è stata considerata abbastanza importante poi per accusare Rosa Eulindo. Quindi io voglio sentire la vostra. Lui in carcere ha scritto degli appunti che sono stati ritenuti appunto indizi di ammissione di colpa. Prima di leggerveli vi avviso che per me vogliono dire poco. In questi appunti lui lascia intendere della colpevolezza in alcuni tratti però anche inganni, manipolazioni. no? Quindi si segue un po' lo stesso pattern che abbiamo già visto e su cui si è dibattuto. Cioè da una parte lui confessa, dall'altra ritratta. Quindi quanta valenza possono avere non lo so. Poi io credo anche che se si dà una penna in mano a qualcuno, questo qualcuno possa scrivere quello che vuole a seconda del momento. Quindi delle circostanze anche. Quindi è molto diverso invece valutare i comportamenti, le dichiarazioni che una persona ha estemporanea, no? E soprattutto avere queste prove. Quanto meno quando non è controllata, appunto, un'intercettazione di persone che non sanno di essere indagate, certo, ha un valore diverso rispetto a cosa una persona fa quando è stata già condannata in prigione. Esatto. Poi questi possono essere, diciamo, di contorno a quello che è un caso che si basa su prove solide. In questo caso, in realtà, si è basato tutto su questo contorno di personalità. Andiamo avanti e vediamo. Sì, tra l'altro, Silvia, so che ti piace particolarmente quando si leggono stralci di cose scritte, no? Perché un po' si capisce anche la personalità di chi scrive le cose. Non so, magari di colpevolezza o di non colpevolezza, perché... Ma non per forza quello, ci dà un'idea di come può, potrebbe o ci immaginiamo come potrebbe pensare una persona. Adesso non siamo psicologhe, quindi non possiamo delineare nessun profilo di personalità. Però quello che ci... le suggestioni che ci dà, quello lo possiamo dire, no? Io ho dato due esami di psicologia, se può servire. Poi ho molato. Gli ho dati anch'io, no, proprio di psicologia, anche se la facoltà era un'altra, però ci ho fatto psicologia cognitiva di sicuro, psicologia dello sviluppo anche, psicologia generale di sicuro, anche quello. Sento un po' di casino sotto. Oh, non so che cosa potrebbe essere. Vabbè, allora, comunque partiamo. Io ve l'ho raggruppata in ordine cronologico, perché erano un po' sparse. Si parte da... Aspetta, cronologico partendo dalla Bibbia? Già la Bibbia, certo. È, quindi cronologico perché gliel'hanno controllata e non c'erano solo quelle scritte e poi ne aggiunte altre, in quel senso, oppure cronologico? Nella sentenza sono riportate magari delle frasi che sono state scritte a ottobre e poi subito dopo ce n'è una di luglio e poi subito dopo ce n'è una di, non lo so, maggio. E io allora ho voluto partire da aprile e andare poi man mano avanti nel tempo. Sì, no, cronologico perché è quello che ha scritto nella Bibbia. Sì. Giusto, stiamo parlando di quello? Sì, sì, stiamo parlando di quello. Ok, quindi vuol dire che c'era qualcuno che controllava quello che c'era scritto e quello che veniva aggiunto? Sì, non lo so perché non c'è scritto, c'è solo scritto in data, tot e poi la frase sotto. Non so se era lui che appoleva… Esatto, che metteva la data. Esatto, può darsi. Sì, può essere. Anche perché alcune sono senza data, quindi vuol dire che non ce l'ha messa. Allora sì, l'ha messa lui, no? No, mi immaginavo già il lavoraccio di quello. Controlla se Olindo ha scritto qualcosa di nuovo, cioè capito? Quindi chiaro, cronologico è perché giustamente la data ce l'ha messa lui. No, ma mi aveva dato fastidio, sai perché quando ho letto lì sulla sentenza questi stralci di trascrizioni, le hanno messe sparse, no? Quindi le parti in cui lui si dichiara più colpevole le hanno messe alla fine, però sono le prime. Mentre invece quelle dove lui inizia a ritrattare, a parlare di vari complotti che può aver avuto in testa, le hanno messe prima. E questo un po' induce a pensare, eh, vedi, ti lascio da ultimo, no? Le frasi bomba che parlano della sua colpevolezza e così ti restano più impresse. Ma in realtà se vogliamo seguire un ordine cronologico ha senso che lui all'inizio fosse convinto di voler passare per colpevole o comunque confessare la sua colpevolezza e che poi dopo per qualche ragione abbia poi cambiato, no? Strategia o abbia voluto, capito? Ha senso più così che fare come hanno fatto loro per me. Allora... Sì, 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 no, sì, assolutamente senso. Cioè io voglio sapere, è molto più interessante sapere l'ordine cronologico nella testa di Olindo, certo. Esatto, esatto, esatto. Allora, senza data, si parte da questa. Quindi, Rabbi, perdonaci, non sapevamo cosa facevamo. Due solitudini si incontrano sempre. In alcuni casi il carcere è il posto più accogliente per gente come noi. Poi, il 24.04.2007 scrivi Accogli nel tuo regno il piccolo Youssef, sua mamma Castagna Raffaella, sua nonna Galli Paola e Cherubini Valeria, a cui noi abbiamo tolto il tuo dono, la vita. Poi, il 5.05.2007 Olindo scrive... Il contadino che semina raccoglie. Noi non abbiamo raccolto ciò che abbiamo seminato, bensì abbiamo partecipato, portati dall'odio e dall'esasperazione al raccolto che altri hanno seminato nel tempo volontariamente. La cosa è diversa. Olindo e Rosa Angela. Ce la posso fare. Quindi lui si firma anche col nome di Rosa? Esatto, sì, in alcuni tratti. Ok, quindi parla a suo nome, di fatto. Parla anche a suo nome, effettivamente. Poi la dice lunga su come si sentivano in simbiosi, di come probabilmente pensassero che o la pensavano veramente uguali su tutto o erano talmente appunto in simbiosi che non c'era più confine tra i pensieri di uno e dell'altro. Lui sicuramente si sentiva di poter scrivere anche per lei. In maniera un po' dispregiativa infatti erano stati considerati, erano stati definiti questa creatura a due teste. Non so se l'avete mai sentito. sì, sì, sì. Non è bello comunque da… Come noi ciao to day, quando parlo del podcast dico sempre il mostro due teste. Sì, ma noi non abbiamo uscito… Non ancora. No, 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 Marta, non dirlo, per carità. No, no, no. Poi… Io piuttosto che vivere con un pensiero del genere tutta la vita anche di causare una morte accidentale, cioè mille volte preferisco essere io la vittima dell'incidente piuttosto che causarlo. Io, figurati, però… Vabbè, allora andiamo avanti. Così, abbiamo fatto una digressione di queste domande esistenziali. Marta, rispondi anche te così almeno abbiamo tutte tre. Sono molto d'accordo, sì, sì, questo peso sarebbe troppo. Allora, Lotto 6 2007 scrive Parabola è vita e messaggio. Verità nascoste come vendute al soldo del padrone. Pensiero. Io chiedo come un uomo come il Gallorini, rappresentante delle forze dell'ordine, possa accettare un'onorificenza sporca di sangue che egli e altri hanno contribuito volontariamente a spargere col silenzio, l'indifferenza dietro compenso di vive denaro. Che razza di uomini sono costoro? Sono forse meglio di noi? Quel sangue che non avrà giustizia nemmeno nelle aule di un tribunale. Ciao Rosa, amore. Poi, il 12 6 2007 scrive C'è anche una parentesi in alto sulla pagina dove è applicata una fotografia di Raffaella Castagna Olindo e Rosa ti capiscono Se non li avessimo uccisi tutti avremmo fatto la tua fine E sotto la foto Tutti sapevano Nessuno fece nulla Noi ti capiamo Ed in calcia la pagina Riposate in pace Rosa Pagheremo insieme nel nostro amore Se voi avete capito che cosa significa questa parte No, sono molto confusa Mi ripeti, scusa, l'inizio di quest'ultima frase In alto sulla pagina Ove è applicata una fotografia di Raffaella Castagna Scrive Olindo e Rosa ti capiscono Se non li avessimo uccisi tutti Avremmo fatto la tua fine E sotto la foto Scrive Tutti sapevano Nessuno fece nulla Noi ti capiamo E poi in calce alla pagina Riposate in pace Rosa pagheremo insieme nel nostro amore La prima parte di frase Che sembra dire Se non li avessimo uccisi noi Avremmo fatto la tua stessa fine Sì È questo il senso Sì Però Non si capisce Anche lei Cioè non capisco Che cosa Va bene Comunque andiamo avanti Il 18-6-2007 scrive Ringrazio il maresciallo Antonio Ha detto le cose come sono successe E l'aiuto che mi ha dato Con lui parlavamo del camper dei canarini Col suo collega Verità al 30% Seguito da Sapevano Nessuno fece nulla per impedire la tragedia Allora Piccola considerazione Che vorrei fare Visto che Ci sono tanti Di cui si sapevano Nessuno fece nulla Tra le cose che sono scritte Nelle sentenze Anche in altri Articoli Che si trovano Ho visto che Olindo è stato considerato Un po' Una personalità Tendente Ai complotti Io non so se questa cosa È stata detta di lui Perché Veniva comodo Visto che poi Aveva iniziato Un po' A dire la sua Su Come era stato Secondo lui Manipolato Insomma Aveva le sue teorie No O se effettivamente La sua personalità Fosse davvero tendente A questo tipo di Meccanismi C'era scritto Io so Io so che nel 2020 Le hanno fatto una perizia Psichiatrica E è stato diagnosticato Con un disturbo paranoico Che poi Possa essere stato Aggravato Da quello Cioè Adesso Mettendola giù In modo un po' Banale Se davvero fosse Innocente E tutto questo Fosse fra virgolette Un complotto È facile Essere diagnosticato Con un disturbo Paranoico Quando magari Stai dicendo La realtà O anche Comunque Dopo tanti anni Di galera Tanti anni Comunque sotto La lente mediatica Sicuramente Già con Una salute mentale Non splendida Non splendida Può essere Che emerga Di più Un certo tipo Di disturbo Quindi Non so se Li sono state fatte Le perizie Prima All'inizio Dei processi Ma nel 2020 Probabilmente Sarà già Carica Un po' Targino Eh sì Comunque Dopo tanti anni Di prigione Non credo Che Esci Presco Come una rosa Voglio dire Comunque Quegli ambienti Lì Non forte impatto Sulla salute mentale Questi stralci Sono di Giugno 2007 Maggio Quindi sono Più o meno In prossimità Temporale È stato detto Per esempio Che lui non crede Che l'uomo Sia stato sulla luna E che quindi Ha tutta questa Mentalità complotista Però quanti Della sua età Hanno queste convinzioni Sì Toglia È proprio Il cliché Del boomer Sì Comunque Per ricollegarci Appunto a quello Che stavamo dicendo Il 7-7-2007 Lui scrive Oggi Studi Aperto Ha dato la notizia Che carabinieri Di erba E compari Prendevano i soldi Dal castagna Per coprire Le cavolate Della figlia Tale espansione Non ne ha neanche parlato Li hanno pagati Notizia uscita Dal tribunale Di Como Citata da mia moglie Nella seconda deposizione Ciao amore E poi sottoscrive La vendetta È come un veleno Che ti invade tutto il corpo Vedo un po' sgomente Sì Un po' sì Esatto Sì È perché un conto Sapete Queste sono cose Un conto è sentir parlare Una persona È un conto Invece entrare un po' Sì Poi è diverso Appunto Come dicevo un po' Quello che dicevo prima In altri casi Dove sono stati trovati I diari Che siano di vittime O di colpevoli Facciamo questa Mera Facciamo questa distinzione Grossolana Ma Quindi Laddove sono stati ritrovati Dei diari Precedenti ai fatti Quelle sono Delle prove Testimonianze Evidenze Importantissime Che ci dicono Della vita Di una persona Dei pensieri Che potevano turbare Eccetera Qui Sei in un ambiente Di carcere Lo sai Che ti leggono Quindi magari Anche La misteriosità Di questi messaggi Per lui Potevano avere Un significato Sì Però Col fatto Che Come sapete Tutti In carcere Non puoi mandare Comunque una lettera Che non sia Visionata E letta da qualcuno Quindi Quando sei in carcere Il messaggio criptico Lo comprendo Di più Sì Poi Leggendo un diario Magari riesci A seguire Anche un po' Di più Il flusso Di pensieri Con frasi Così corte È difficile Non sapendo Da dove arrivano Questi pensieri È difficile Anche interpretare Al fine Quando magari Sei Lì In un loop Di pensieri Metti giù Solo una frase Non traduci Tutto quello Che vorresti dire Quindi È molto più difficile Da interpretare Però L'hanno fatto Per esempio Sempre in una Delle sentenze La frase Che vi ho letto Prima Verità Al 30% È stata Interpretata Come Presumibilmente Olindo Si sta riferendo A se stesso Cioè Che non ha detto Tutta la verità Ma invece Potrebbe Anche Tutto il contrario Potrebbe riferire Ad altri Quindi Il punto Il punto è Non ha detto Tutta la verità Quando Quando ha confessato Quando si è sconfessato Cosa vuol dire Non ha detto Tutta la verità Dare una percentuale Alla verità Scusate Se rido Però Cioè Il 30% Di verità Cosa vuol dire Cioè Come fai a quantificarlo Io credo Che dal momento In cui lui Era stato Condannato Lo stesso E che Erano state Definite Diciamo Delle sue Assunzioni Di colpa Rispetto a Quello Che era successo Intendesse La verità È uscita Al 30% Cioè Non credo Che l'attribuisse A se stesso La verità Che tu attribuisci A se stesso Lo sai Io credo Che Generale Era stato Condannato A quel punto Quindi è uscita Poca verità In quel senso Posso immaginare Ma invece Per esempio La frase Quando dice Con la foto Di Raffaella Ti capiamo Se non Li avessimo Se non Li avessimo Uccisi Noi Dice così Ma hanno ucciso Anche lei Sì Appunto Cioè Sarebbe stato Diverso Se avesse Scritto Se Non Se non Avessimo Fatto Noi Avrebbero Fatto Loro Che ne so Magari Loro Sottominaccia Di Da Altre Da terze Persone Per Dovete Uccidere Loro E prendervi La colpa Se no Noi Uccidiamo Voi Però Badate bene Sto estremizzando Però Non è questo Il cacero Non può significare Questo La frase La frase Che ha Scritto Sì Però Badate bene A Le date Il periodo In cui Olingo Aveva Confettato Effettivamente Scrivesse Delle cose Dubbie Su questo È strano Capite che cosa Intendo Cioè Se in quel momento La sua strategia Era quella Comunque sapeva Essere letto Poteva scrivere Le cose Che magari A noi risultano Un po' Contraddittorie Perché effettivamente Lo suo Uno non si capisce bene Però La data Secondo me È importante Perché in effetti Poi dopo Ha iniziato A scrivere Altro Sempre cose Particolari Tipo Il 31 7 2007 Dopo una dedica Affettuosa Alla moglie Scrive Dio perdona Anche quelli Come noi Che su questa terra Hanno vissuto L'inferno E poi Il 26 8 2007 Scrive Col piedi per terra È quello che dicono I nostri due avvocati Che conoscono I fascicoli Le dichiarazioni Gli orari detti Eccetera Eccetera Quella sera Né io Né mia moglie Stando alla loro Ricostruzione Avevamo il tempo Materiale Per uccidere I coniugi Frigerio Altrimenti Non avremmo avuto Il tempo necessario Per salire in auto E uscire dal cortile Senza essere visti Come di fatto Quella sera Non abbiamo visto Nessuno E nessuno Ha visto noi La nostra auto Era fuori casa A questo punto Facciamo un passo indietro Se quello che ho citato Sopra Corrisponde al vero Rivediamo le deposizioni Che abbiamo rilasciato Ai carabinieri Di Erba e di Como Tenendo presente Che il Gallorini E alcuni altri carabinieri Sono sul libro Paga dei Castagna Come lo erano E forse lo sono ancora Con il fratello Del ferito Mario Quest'ultimo In affari poco puliti Con Azuz Droga E macchinette Mangiasoldi E chissà cos'altro Si riferisce a Mario Frigerio Sì Questo è tutto Da dimostrare Quella sera Io e mia moglie Siamo usciti di casa Verso le 20 Forse anche prima Per andare a Como Io e mia moglie In quel contesto Eravamo e siamo ancora Due imputati Con tanto di movente L'eliti con la famiglia Castagna E Azuz Teniamo presente Che non eravamo E non siamo I soli Ad avercela con loro Poi si è sparsa La voce Che a uccidere Erano stati di vicini Di casa E che era imminente E l'arresto Ai carabinieri Stava sfuggendo di mano La situazione Senza dirci niente Ci hanno portato Alla caserma di Como Risolvendo il loro problema Qui siamo passati Dalla disperazione Alla confusione Dopo le pressioni Dei giornalisti Ma soprattutto Dei carabinieri Che venivano A casa nostra Quando volevano E come se fosse Casa loro Poi qui in carcere Ediviti In isolamento Non vedendoci Non avendo notizie Abbiamo rilasciato Le confessioni Che ci hanno danneggiato Ci siamo sfogati La realtà Con la fantasia E le notizie Apprese dai giornali Dalla tv E non so cos'altro Ci siamo trovati In qualcosa Più grande di noi Non sapendo cosa fare Della nostra ignoranza L'avvocato Troiani Ha fatto poco o nulla Quando abbiamo reso Le confessioni Io pensavo Che mi avrebbero messo In cella con mia moglie Anche lei aveva Questa speranza In quei momenti Eravamo smarriti Confusi Non ci rendevamo conto Quasi di cosa facessimo E dicessimo Ci volevamo proteggere A vicenda Dopo la prima E la sua deposizione Ci hanno richiamato dentro Sempre una alla volta Per rettificare Le due deposizioni E dargli una logica Sembravano degli avvoltoi Che volessero le nostre tette Dalla verità Non gliene fregava Niente Volevano solo Finire in fretta Poi il nostro silenzio La nostra rassegnazione Le nostre sofferenze Poi la deposizione Di mia moglie Che non so neanche Cosa abbia detto Piccola ti amo Già questo più articolato E più facile seguire Il filo del discorso E su questa cosa In sentenza Come l'hanno analizzata? Non l'hanno proprio presa In considerazione Hanno solo preso in considerazione Le parti in cui lui Confessa Si dichiara colpevole Il 2907 Che prove hanno contro di noi? Frigerio Chi ha visto realmente Se ha visto qualcosa? La paura L'hanno pagato Per fare il mio nome O che altro? Le prove biologiche Non ripetibile Trovata dai carabinieri Di Como Dopo vari giorni Che ce l'ha messa La mia auto È stampa aperta Che altre prove hanno A nostro carico? Abbiamo fatto il loro gioco Nella nostra ingenuità Ma non è finita A queste poche parole E domande Ci crediamo solo io e Rosa Poi sulla pagina intera Diciamo che Comunque lui Era in collegamento Con Cioè Aveva sempre incontri Con i suoi vocati Con il suo avvocato Quindi Quello che Quello che ha appena letto È esattamente La strategia difensiva Sì Certo Certo Sono anche un po' Queste cose Non le scrive subito Si capisce Che ha parlato Con gli avvocati Con il suo avvocato È la linea difensiva Sta Sta dicendo La linea difensiva Sì Sì C'è da dire Da una parte Bisogna Bisogna anche Entrare nella logica Magari a questo punto Capisce Che Non rivedrà Davvero sua moglie Che Le confessioni Che ha deposto Non l'hanno avvantaggiato Per niente Come gli avevano promesso E quindi Niente Si può leggere In tutti i modi Si può leggere Che lui adesso Dica No Non mi sta più bene Nesta cosa Quindi Veniamo ai fatti Perché voglio uscire Oppure Che segua Semplicemente La linea difensiva Che è questa Che effettivamente È un po' controversa In effetti Ci sono delle controversie A prescindere Però Allora Poi Sulla pagina interna Della copertina Forse in data 4 9 2007 Ricavabile Della pagina Incollata Subito dopo Scrive Verrà la morte Ed avrai i tuoi occhi Raffaele La vendetta La memoria lunga Poi 31 10 2007 E con questo Concludiamo Dopo un lungo silenzio Una voce si leva Tra le tante La nostra Non vi è uomo Che possieda Tutta la verità Ciascuno ne conosce Una parte Di quella sera Che mai alcuni Di noi Dimenticheranno A voi Non importa La verità Altri sono I vostri scopi Neppure un cagnolino Scodinzola per nulla Noi Con la nostra parte Di verità e bugie E i nostri errori Abbiamo dato loro corda Tanta corda Noi perfetti capri spiatori Stiamo già pagando Portati e indotti Dalle circostanze E dagli eventi Non per quello Che una parte di voi Pensa Ma non pagheremo Per ciò che non abbiamo Mai commesso E con questo Si concludono Diciamo Gli stralci E della Bibbia La Bibbia Di Olindo La Bibbia Di Olindo Sì Che considerazione Avete Sicuramente Non credo Che nessuna Di queste Parti Possa essere Prova di colpevolezza O di innocenza Di base Proprio Partiamo da qua Poi Non so È molto interessante Peccato che non si riesca Non si abbia di più Di quelle parti Un po' più criptiche E meno Chiare Sarebbe stato bello Proprio poter indagare Un po' di più I meccanismi Anche quando si definiva Colpevole In effetti avrebbero potuto Chiedergli Che cosa significa Questa frase Me l'argomenti Mi fai capire Io probabilmente Avrei tentato Di capire Che Non so Che collegamenti Ha fatto Magari l'hanno usato Nella perizia Guardate Io le perizie Ho provato Ho provato A leggerle Perché ci sono In tutte le sentenze Ma Litigano Litigano Gli psichiatri Tra loro Litigano I dottori Non sono d'accordo Poi io intendevo Nell'ultima perizia Io Solo Diciamo Il risultato finale Quindi il disturbo Paranoico Per Olindo E il deficit Cognitivo di Rosa Però non Non le ho trovate Intere Comunque Quello che hai letto In ordine cronologico Rispecchia esattamente Ciò che Come lui si professa Poi Prima colpevole Poi innocente Poi io non voglio Fare sempre Sapete come la penso Però Il fatto che In sentenza Siano state Scelte alcune parti E Escluse altre Non lo vedo Molto corretto Se vuoi usare Una cosa come prova La usi Rintero Diciamo che la difesa Ha preso in considerazione Tutto Nel senso Anche le parti In cui appunto Lui poi ritratta Anche nella Bibbia Però Non sono state Reputate Abbastanza convincenti Evidentemente E quindi hanno Hanno solo Evidenziato Le parti In cui lui Si professa Colpevole Sì ma Le parti Della Bibbia In cui si Professe Innocente È stato Poi l'andamento Che Appunto Della Della sua Le sue Dichiarazioni Prima Si è dichiarato Colpevole Poi non c'è Cioè non è Nulla Non è la situazione Contraria a quella Che Esponeva pubblicamente Ecco Sarebbe stata Una prova Già più Lampante Se lui A Ottobre Avesse scritto Sì Vabbè Sono io Invece ha proprio Seguito Lo stesso Lo stesso pattern Che Che è avvenuto Quando ha fatto Le Eh ma Allora Vogliamo parlare Del fatto Che magari Lui Con questi Gesti Pensava Cioè Ancora credeva Che comportandosi Bene Mostrando Pentimento Avrebbe Ottenuto Quello Che Era loro Solo obiettivo Cioè quello Di stare in cella Insieme Potrebbe anche Essere così Perché Di erba Magari Non tantissimi Conoscono tutti I dettagli Ma Che Che volessero Stare in cella Insieme Che gli avessero Detto Starete in cella Insieme Questo Penso che Se viene sempre Fuori Da tutti I racconti Di questo Caso Che vengono Fatti Online Cioè Su youtube Eccetera Da chi Racconta I casi Di cronaca Nera Il fatto Che loro Volessero stare Sempre in cella E poi Durante il processo Non so se poi Ne vuoi parlare Sono stati Ripresi In Che finalmente Erano vicini Durante il processo E quindi Ridacchiavano Sì sì Poi parleremo Di quella parte Se 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 ce la facciamo Comunque Colpevoli O innocenti Perché Io ve lo anticipo Già Finiamo Questa Finiremo Questo caso Che avremo ancora Il punto di domanda Cioè Io avrò ancora Il punto di domanda Non avrò Non lo so Però Marta No io no Mi dispiace Ho un grande Punto esclamativo No no Però Non mi sento Né di dire Cento per cento Una cosa Né per cento per cento Un'altra Certo Comunque È un caso Su cui si può Discutere tanto A prescindere Da questo Da Pensare Che siano Innocenti O colpevoli Il loro modo Di comportarsi In questa situazione Il loro Il modo di comportarsi Pubblico Perché poi Di quello che loro Raccontano Nelle loro Dichiarazioni Che è successo Cosa succedeva Nel privato Noi non lo possiamo Sapere Noi ci basiamo Cioè In questo discorso Stiamo Commentando Analizzando Quelli che sono Le loro Dichiarazioni Nel loro comportamenti Ufficiali Pubblici Che come abbiamo Abbiamo detto Ambienti Ambienti Che Si logorano In un modo Nel altro Parte qualche Storia Fantastica Di posti Dove invece Ci sia Vera Riabilitazione Però Non mi sento Di giudicare Le reazioni Di persone Che passano Così tanto tempo In carcere Magari anche In isolamento Perché Veramente Ne esci Sotto Poi La lucidità La perdi Secondo me Allora Io se Se volete Passerei A quello Che è stato Ritenuto In sentenza Poi che è successo No? Quindi i movimenti Di Rosa Cosa avrebbero fatto Rosa e Olindo Poi ragioniamo Sui punti Che magari Ci tornano meno Insomma Ci ragioniamo Vai Allora Cosa si è ritenuto Plausibile Che sia accaduto? Innanzitutto La prima cosa Che è stata ritenuta Plausibile È che loro Fossero andati A staccare Il contatore Per le 17.30 Questo contatore È stato staccato Oggettivamente Quel giorno lì Alle 19.50 Raffaella Arrima in stazione Ad erba E ad aspettarla Ci sono La madre Paola E il bambino Si dirigono In via Diaz Vanno a casa Che cosa succede? Parcheggiano Attraversano la corte E si avviano Verso casa In questo momento Esatto Olindo È fuori Che sta fumando E li vede Secondo le sentenze Era tutto programmato E quindi Sapeva che sarebbero Arrivati Insomma Rosa a questo punto Esce Raggiunge Olindo I due Lasciano Che la famiglia Salga Quando loro Sono saliti Anche loro Si incamminano Su per le scale Verso il portone Castagna E durante Il tragitto Che fanno La rampa Di scale Indossano Entrambi Dei guanti Di tela Bianchi Hanno due Poltelli A lei E uno A serramani Colui E hanno Questa stranga Rivestita Riescono A cogliere Di sorpresa Raffaella Perché Probabilmente La donna Aveva riaperto La porta Perché mancava La corrente Quindi Stava andando Giù Per riattivarla Nello specifico Nello specifico A questo punto Aolindo Che aggredisce Per primo Raffaella Dopodiché Si avventa Su Paola Galli E nel mentre C'è questa dinamica Rosa va purtroppo Ad occuparsi Del bambino Poi Rosa Dopo aver Concluso Aiuta A finire Le due Donne Quindi Aiuta Aolindo E A questo punto Sono Poco più Delle 20 Siamo intorno Alle 20 E qualche Minuto Appiccano Il fuoco In casa Quindi Aolindo Stava perfumando Giù Quindi Presumibilmente Aveva Quest'accendino Anche Con sé Lo appiccano Prendendo Da uno Scaffale Questa Bottiglia Di alcol Profumato Fanno Per uscire Dalla porta Principale Perché A questo punto Poi il fuoco Il fumo Inizia di Pampare Siamo Intorno Alle 20 15 Vedono I coniugi Frigerio Che stanno Scendendo Le scale Attirati Da questo Fumo La prima Reazione Che hanno È quella Di chiudere La porta Ma non Possono Comunque Rimanere Lì Dentro Quindi Sono Costretti A riaprire La porta E Mario Frigerio E la moglie Sono giunti Al pianerottolo Cosa Succede? Olindo Aggredisce Mario Mentre Invece Rosa Aggredisce Valeria Cherubini Frigerio Come noi Sappiamo Fortunatamente Riesce A sopravvivere Per via Di quella Malformazione Carotidea Valeria Cherubini Secondo la ricostruzione Ufficiale Subisce Tutti i colpi Compresi Quelli mortali Su questo Pianerottolo O comunque Poco sopra I primi Scalini Però Non muore Non muore subito Riesce Oggettivamente Perché Verrà Trovata Su A strisciare Fino al Piano Superiore Raggiungendo Il suo Appartamento Poi Sempre Secondo La ricostruzione Lei Si aggrapperà A questa Tenda Strappando Una porzione Con le unghie Probabilmente E inizierà A gridare Aiuto Stava andando Verso La sua finestra Immagino Certo Sì Per aprire Anche Esatto Distinto Vai verso Casa Distinto Quindi Non stai lì a pensare Il Il fumo Del fuoco Dell'incendio Vieni in alto Vai su In casa tua E Apri la finestra E cerchi di aprire La finestra Quindi per questo Magari Ho cercato Di aggrapparsi La tenda Per Anche Rialzarsi Come sappiamo Sì Dimmi Marta Sto aspettando Quando è che posso fare Le considerazioni Ti lascio finire Facciamo la ricostruzione Ufficiale Poi parliamo Di punti Che vogliamo analizzare Allora Non sarà possibile Salvarla Purtroppo Si sa Per il fumo Lei muore Genuflessa Su se stessa In questa pozza di sangue Alle 20 e 20 Sono a questo punto Giunti I primi soccorsi E la Cherubini Morirà da lì a poco E questo è un punto Cruciale Della storia Quindi teniamolo a mente Poi Stando sempre Alla ricostruzione Ufficiale Prima Dell'arrivo Dei vigili Del fuoco I due Coniugi Quindi Rosalindo Hanno messo Le armi Dentro Un zacchetto Sono scesi Verso il portoncino Hanno lasciato Sempre Secondo la ricostruzione Ufficiale Peraltro Di non so Che materiale Che poi usano Per raggruppare Gli abiti Intrisi E mettono tutto Poi in un sacco Della pattumiera Dopo essersi cambiati Portano questo sacco In macchina E si dirigono Verso il cimitero In cui c'è un lavatoio Lì si lavano per bene Dopodiché Tornano alla macchina E dividono Il precedente sacco In tre diversi sacchi Olindo dice Io facendo il lavoro Di Inturbino Avevo sempre in macchina Questi sacchi Che ho usato Per dividere il materiale Scaricano poi tutto In questi tre cassoletti Diversi Dopodiché La storia la conosciamo Vanno a mangiare al mac E tornano a casa Intorno alle 22.30 Io sì Ho molto da dire A questo punto Però lascio la parola A te Marta Allora Innanzitutto Una delle dichiarazioni Che è stata fatta È che I vicini Di sotto Quindi la famiglia siriana Dice di aver sentito Dei rumori Venire dall'appartamento Di sopra Alle 18.30 Quindi dopo Che era stata staccata La luce Ma prima Che rientrassero Che rientrasse La famiglia Poi Allora In realtà C'è molto da dire Su due punti principali Uno La via di uscita Ipotetica Di Rosa Deolindo E due Proprio L'attacco La morte Sul pianerottolo O in casa Della moglie Di Frigerio Di Valeria Giusto? Sì Perché Perché Allora I due soccorritori Quindi vicini di casa Ballabio E Bartesaghi Che entrano Per primi Dicono che Mentre stavano Soccorrendo Frigerio Hanno sentito Le urla Di Valeria Sopra E Hanno tentato Di salire Però Purtroppo Con tutto il fumo Che c'era Non ci sono riusciti E quindi Non sono riusciti A salvarla Ora Valeria Oltre ad avere Il cranio Fracassato Come tutti Aveva La gola Tagliata E anche La lingua Tagliata Se tutti I colpi Inferti Sono stati Inferti Sul pianerottolo Uno Non sarebbe Riuscita A risalire Due Non sarebbe Sicuramente Riuscita Ad urlare Quindi La teoria Che I primi colpi Le siano stati Inferti Sul pianerottolo Che poi Sia scappata Di sopra E le aggressori L'abbiano seguita Nel suo appartamento E l'abbiano Finita lì Infatti Su Questa famosa Tenda C'è Uno squarcio Che non è Uno strappo Proprio Un taglio E Lo schizzo Di sangue Tipico Di una gola Tagliata Quindi La teoria Che lei Sia stata Uccisa Finita Nel suo appartamento In realtà Regge Se non fosse Che La tenda Fa parte Di uno Di quei Reperti Che è stato Bruciato Prima che La difesa Avesse La possibilità Di analizzarla Ci sono le foto Si vede Che non è Uno strappo Ma è proprio Un taglio Però la tenda Non c'è più Questo punto È importante Perché Se Valeria È stata Finita Nel suo appartamento Mentre i soccorritori Stavano cercando Di aiutare Frigerio È impossibile Che Gressori Rosa Olindo O chiunque Altro Potessero scendere E uscire Passando per la scala Perché altrimenti I soccorritori Ne avrebbero Visti Quindi Diciamo L'accusa Cerca di far Passare L'aggressione Di Valeria Come avvenuta Sul pianerottolo Perché In quel Caso Avrebbe senso Che Rosa Olindo Avessero avuto Il tempo Di scendere Però Analizzando Le prove Non regge Allora Io Anche io Ho molto Da dire Sulla Cherubini Prima Di dire Mia Però Vi voglio Leggere Quello Che è stato Stabilito In sentenza Su di lei Sì È stato Scritto Che I colpi Alla donna Erano stati Inferti Solo sul Pianerottolo Del primo Piano Al più Sui primi Gradini Che portavano Al piano Superiore Olindo Dice che Dopo aver Ferito Il frigerio Aveva visto Rosa Che tappava La bocca Alla Cherubini Per non farla Gridare Lui si era Avvicinato Aveva dato Due o tre Coltellate I corpi Dei frigerio Erano rimasti Lui sulla porta Di casa Della Raffaella E la moglie Che strisciava Ed era riuscita A salire Di qualche Gradino Olindo Pensava Che fosse Morta Mentre la moglie Dice che la donna Se lamentava E tentava Di salire Le risultate Hanno accertato Contrariamente A quanto era Merso Dalle prime Indagini Che la donna Non era stata Inseguita Nel suo appartamento E ivi colpita Sul punto La difesa A mezzo Del proprio Consulente Tecnico Professor Torre Ha cercato Di dimostrare Che Uno La donna La donna Era stata inseguita Fino all'interno Del suo alloggio E l'ha ferita Perché gli abiti Non erano imbrattati Nella parte alta Del corpo Cosa che avrebbe Dovuto avvenire Se le maggiori ferite Al capo Fossero state inferte Quando si trovava Ancora sul pianerottolo Due Il giubbotto Trovato a pochi passi Dal cadavere Aveva pochi tagli Rispetto alle ferite Riportate E ciò Dimostrerebbe Che l'aggressore Si era premurato Di togliere L'indumento Per colpirla Con più efficacia Tre Vi era un evidente Segno di coltellata Sulla tenda Che si trova Vicino al corpo Segno che è stata Colpita all'interno Del locale Le tracce di sangue Sulla tenda Sono da schizzo A seguito Dell'aggressione Avvenuta nei pressi Della tenda stessa A queste considerazioni La sentenza replica Che il sangue Può essere stato Lavato sulle scale Dall'acqua Gettata dai vigili Del fuoco Per spegnere l'incendio La donna Aveva cercato Di tamponare Le ferite Con un fazzoletto Ed una sciarpa Che sono stati rinvenuti Accanto al cadavere In tresi di sangue È ragionevole Che la Cherubini stessa Si sia tolta Il zubbotto Che portava Probabilmente Già aperto Perché si sentiva Soffocare Sulla tenda Non vi è segno Di coltellata Ma a caso mai Di uno strappo Provocato Dalla Cherubini Che aveva tentato Di aggrapparsi ad essa Sangue trovato Sul tessuto È da imbrattamento Mentre nell'appartamento Castagna Vi sono molte macchie Di sangue Da schizzo No perdonatemi Mentre nell'appartamento Castagna Vi sono molte macchie Di sangue Da schizzo Nell'appartamento Di Frigerio Vi sono essenzialmente Macchie da imbrattamento Tutte localizzate Nelle vicinanze Del corpo Sul pianerottolo È stata rinvenuta Parte della protesi Dentale Della Cherubini Inoltre Tracce del sangue Della donna Si trovano Sul giubbotto Di Raffaella Castagna Certamente rimasto Al primo piano Sotto forma Di tracce Sul muro Ed attorno alla porta Di ingresso Di Castagna Ed anche sul triciclo Per bambini Situo all'ingresso Della stessa porta Ancora Tracce di sangue Poi partono Dal pianerottolo Del primo piano Ed arrivano Sino al punto Ove si trova il corpo Sotto forma Di gocce E di sfregamenti E spalmature Sull'interruttore Della luce Sul citofono Dei Ramon Vicini di casa Dei Castagna Sul pilastro Posto verso L'appartamento Ramon Tracce di mano Che si appoggiano Si trovano poi Lungo la rampa Di scale Che porta Al piano superiore Mentre Non ci sono Tracce di altro tipo Che manifestino Che la signora Era stata inseguita Dall'aggressore Fino alla sua casa Sulla scala Non era stata Gettata l'acqua Per spegnere l'incendio E vi erano Solo macchie di foligine Così che un passaggio Di persone diverse Dalla predetta Avrebbero dovuto Rivelarsi L'appartamento Frigerio Poi non era stato Toccato dall'incendio E non presentava Alcun segno Dell'occolottazione L'unica impronta Estranea Trovata sul cuscino Del divano Riverso a terra Si spiega Con l'orma Di un vigile Del fuoco Entrato per soccorrere Anche la posizione Del corpo Di difesa Contrasta con Un'aggressione In quel locale Mentre è compatibile Con l'ultimo sforzo Che ha fatto Per aggrapparsi Alla tenda E cercare di Aprire la finestra La perizia La perizia del dottor Scola Conclude che La cherubini È sopravvissuta Alle lesioni Subite Alla morte Ed è imputabile Al trauma Cranico I cui effetti Furono esaltati Dall'ossido di carbonio Avendola predetta Avuto il tempo Di inalare Fumo Nei bronchi Il fatto Che la donna Fosse viva All'arrivo Dei primi soccorritori È provata Dai lamenti Uditi dal ballavio E dal bartesaghi In quel momento Gli aggressori Non avrebbero avuto Qualcuna via di fuga Dall'appartamento Manzardato Allora Vi posso dire Le mie considerazioni Rispetto a quello Che abbiamo letto Vai Perché non sono D'accordo Su tutti i punti Allora Innanzitutto Sono d'accordo Con quello Che hai detto Prima Cioè che Se Valeria Cherubini Avessi subito Tutti questi colpi Mortali Sul pianerottolo Non si spiega Come sia possibile Che abbia poi Risalito Due rampe di scale Lasciando Dietro di sé E pochissime gocce di sangue Perché quello Che viene detto È Le scale Non sono state Assolutamente Colpite dall'acqua Le scale Castagna Cherubini Se non i primi Giusto scalini Se tu Scanni una persona Sul posto E la colpisci Ripetutamente Perché poi La Cherubini È stata colpita Da colpi alla testa Ripetuti Da coltellate Sulle braccia Sulla schiena Sotto il gluteo Sulle gambe È stata presa ovunque Non si capisce Come sia possibile Che questa donna Soprattutto Per lo scannamento Non abbia schizzato sangue Per tutte le scale Primo punto Che mi domando E non è stata data Una risposta Soddisfacente Da nessuna parte Poi Appunto Si contraddicono Perché prima Viene detto Che molto del sangue Può essere stato lavato Dall'intervento Dei vigili del fuoco Benissimo Però appunto Si parla solo Della zona Del pianerottolo Dei castagna In giù La rampa di scale Che va invece su E l'appartamento Stesso del frigerio Non è stato Sommerso Dall'acqua Quindi Questo è un punto Su cui mi piacerebbe Ad avere una risposta Inoltre Come dicevi tu Come abbia potuto Gridare Al piano superiore Aiuto aiuto Con la gola Già squarciata E ricordiamoci La lingua tagliata Rimane anche quello Un mistero Abbastanza insondabile Consideriamo anche Il fatto Che la donna Non ha sangue Nei polmoni E nello stomaco Ed è molto strano Che lei sia riuscita A risalire La scala Con un enorme Io immagino Sforzo fisico Nelle condizioni In cui era E sia riuscita Anche a gridare Senza mai respirare E mai inghiottire Del sangue Perché non c'è sangue Effettivamente Nello stomaco Della Della Cherubini Ci sono queste macchie Sulle tende Ci sono macchie Sulle tende È stato detto Che queste macchie Sulle tende Non fossero Assolutamente Da schizzo Però Non sono state È stata Una presunzione Perché non sono state Mai analizzate E quindi Ci credo Ma ci posso non credere Nel senso Non è una prova Se fosse stato fatto All'epoca L'esame Che ricostruisse Come queste macchie Da proiezioni Sono presenti Sulle tende Sarebbe stato Sarebbe stato più semplice Invece è stato Banalmente assunto Che lei Abbia schizzato Del sangue La sola Insomma Quella era una scena Che secondo me Andava analizzata Molto bene Per capire la dinamica Molto Molto bene Più di tutte le altre Che erano state Compromette Sì Anche perché potrebbe essere Che magari Non so Le macchine a schizzo Arrivassero Magari dal fatto Che stesse tossendo E quindi Con tutto questo sangue Però Come hai detto Se non c'è sangue Nei polmoni E nello stomaco Cioè nel momento In cui tossisci Immagino anche Per il fumo Il sangue Ti entra nei polmoni Esatto Quindi la ferita Sembra veramente Avvenuta Dopo Al fine Diciamo Poi La maggior parte Del sangue Si trova sotto Alla cherubini Che è compatibile Secondo me Con questo Scannamento Cioè è assurdo Che l'abbia perso dopo Perché comunque La carotide Ti fa Perdere Un botto di sangue Altro punto Sì Così Mi è venuto Così Allora Ci sono dei punti Ok Va bene Però Questa cosa Si potrebbe Cioè voi Quello che avete detto È impossibile Che urlasse Ok Quindi Ma I primi due Soccorritori Entrambi sostengono Di aver sentito Degli urli sopra Sì Ok Quindi Quell'urlo Poteva essere O Valeria Cherubini Prima di essere Sgozzata Esatto E quindi Questo voleva dire Che poi c'era Qualcun altro Doveva essere Di con lei Oppure Queste Altra Queste altre Grida Possono essere Di Della persona Che era di con lei E però Poi come è uscita Quella persona Che lì con lei Aspetta È lì che voglio arrivare Partiamo sempre Cioè questa è Un'ipotesi Un'ipotesi In caso in cui Cioè in cui Li ipotizziamo Colpevoli Ok Sì Come quindi Nell'ipotesi in cui Sono colpevoli Loro perché Uccidono Frigerio E la Cherubini Perché Li avrebbero Riconosciuti No Come poi Effettivamente Frigerio Dice Di averli riconosciuti Quindi Se loro Ammazzano Frigerio E la Cherubini Perché erano vicini Li conoscevano Avrebbero riconosciuti E questo È l'unico motivo Per cui li uccidono Pensate solo Che su La voce Che sentivano Cioè Quando arrivano I primi soccorritori Entrambi Erano ancora su E Quando i soccorritori Sono usciti Perché non riuscivano A respirare Loro sono usciti Dopo i soccorritori In qualche maniera Non li hanno visti Ma a quel punto Nella corte Ovunque c'era Un botto di gente Cioè Erano scesi I condomini C'erano i vigili del fuoco Cioè Si stava veramente Creando un capanne Attenzione I vigili del fuoco Cioè Loro I primi due soccorritori Sono i primi A chiamare I soccorsi Appena Si mettono Loro in sicurezza Quindi vuol dire Che escono Dalla palazzina E si allontanano Dalla palazzina Perché Metti che c'era Uno scoppio Cioè Uno era pure Vigile del fuoco Quindi tu Quando esci Da un palazzo Che sta prendendo fuoco Non stai lì Sotto il portone Ti allontani Cioè Ti metti A una distanza Di sicurezza Ok Io non so Com'era O se Magari loro Non avevano il cellulare Perché all'epoca Anche lì Non è come adesso Magari Non ci si portava Dietro il cellulare Per uscire Ma c'erano Anche C'erano Anche La moglie Le mogli Dei soccorritori Che immagino Avessero chiamato Mentre Vuoi mettere Che in una situazione Del genere Cioè Arrivano Dei primi soccorsi Cioè Esce Fumò Da una casa Vuoi che lì Dalle finestre La gente Non si fosse affacciata Quando Proprio è stato palese Che era successo qualcosa Anche ad esempio Banalmente La famiglia Di siriani Che stava di sotto Non penso Siano rimasti in casa Appunto Quindi Allora La gente Che è in cortile Io me la sto Figurando Ricordiamo che siamo A dicembre Ed è sera Io non so Com'era l'illuminazione Di quella corte Se c'era Oppure Comunque Discreta Non saprei Però la sera D'inverno Chiaro Che Se Chi si affaccia Alla corte Chi può vedere Il palazzo Si concentra Sul fumo Si concentra Ed è normale Per loro vedere Gente che esce No Magari Da una finestra Dal balcone Non sta a dire Guarda sta uscendo Quella persona O riconosce quella persona È molto più concentrata Sull'incendio Sul fumo Su Cioè Secondo me Ci potrebbe stare Che loro sono riusciti a uscire Come sono usciti Probabilmente Tutti gli altri Prima che arrivassero i soccorsi Perché ovviamente Se abiti lì Sei il primo A sentire l'odore Quindi Ad aprire la porta Uscire E Allontanarti da lì No Quindi è normale Vedere da un palazzo Che sta prendendo Che sta andando A fuoco Anzi Da qui esce del fumo Vedere le persone Che escono Era sera Era no Anzi era notte Praticamente Sera Comunque buio L'inverno Non mi aspetto Che in cortile Ci fossero Tante persone Ognuno era casa sua E al massimo Poteva vedere da una finestra E ci sta Cioè Non ti concentri Sulle persone che escono Quello che volevo dire io è Può essere Che qualcuno Fosse ancora su E se fossero stati loro A essere ancora su Semplicemente Se avessero Nella loro fuga Incontrato Questi due Avrebbero fatto fuori Anche loro Anche questi Ok Ma rimane il fatto Che Loro avrebbero dovuto Aspettare Che i soccorritori Soccorressero Frigerio Che lo portassero giù Nel frattempo Chiaramente Avevano già chiamato Anche i vigili del fuoco Eccetera Magari Di Tra virgolette Fortuna Molto Tra virgolette Loro Non avevano Erano su E non sapevano neanche Che c'erano I primi Soccorritori ad arrivare Comunque Erano già pronti Per Come avevano fatto Con Frigerio Seccare Chiunque Si mettesse Sulla loro strada Non lo so Sembra un po' Romanzata Come cosa E improbabile Considerati soggetti Però Io credo Che sia proprio Impossibile Che siano usciti C'era C'era un botto di fumo C'era un botto di fumo Secondo me Ogni minuto In più che uno Rimaneva lì Rischiava Veramente Di soffocarci Certo che è vero Credo che i soccorritori Non sono riusciti a salire Per soccorrere Valeria E in teoria Loro erano lì Con Valeria E poi sono anche Tornati giù Senza No non credo Se fosse possibile Aspetta Però L'arrivo Della Dei vigili del fuoco Ce l'abbiamo Un orario Sto riguardando La mia Timeline Ma non c'è No io so che Allora Allora Le 20.16 Scusate Vedono il fumo Io ho segnato 20 e 20 Non so se 20 e 20 Viene attaccato Frigerio O io E 20 e 23 Entrano i primi soccorritori No io ho 20 e 20 Ballabio Vede il fumo Che esce Mentre scola La tovaglia E Va a chiamare Il vicino Bartesaghi Che sapeva Cioè che il volontario Dei vigili del fuoco Quindi Non so se abitava Nella sua stessa palazzina O comunque Nella corte Quindi vuol dire Mettersi il cappotto Uscire di casa O Va a chiamare Proprio Quindi Non Va a chiamare Vuol dire Che non lo chiama Al telefono Che va alla sua porta E quello C'è alle 20 e 15 Alle 20 e 15 Secondo La ricostruzione Nelle sentenze Le 20 e 15 È il momento In cui I coniugi Frigerio Stanno scendendo Le scale Perché sono attirati Dal fumo L'orario È riportato Perché hanno fatto Un ricordo Su quando era stato Trasmesso Quella sera Il Tg Mi ricordo Che c'è scritto Questo È stato Ritenuto a quest'ora Perché il testimone Ha detto che il Tg Non era ancora iniziato Qualcosa del genere Comunque Se cerchiamo di Cioè Vedo che qua Gli orari Non sono chiari In generale Anche perché Va tutto Nell'arco Di 10 minuti Esatto Comunque Finisco Finisco Il discorso Su quello Che è stato scritto In sentenza Sulla Sulla Cherubini E poi vi dico La mia opinione Che è diversa Cioè io ho pensato Altre cose Una cosa Che non Che non ritengo Assolutamente Una prova Che è stata scritta In sentenza Sulla Cherubini È che è stato detto Che fosse inverosimile Che gli assassini L'avessero raggiunta Perché non ci sono Delle tracce Di collottazione Nell'appartamento Questo è proprio scritto Però io mi domando Perché ce ne dovrebbero essere Cioè io mi posso immaginare Che Valeria Fosse gravemente ferita E che fosse difficoltoso Per lei combattere A quel punto No anche Certo E beh Se prendi Una sprangata in testa Esatto Poi anche con tutto Quello fumo Esatto Aveva per vaso L'appartamento Lei magari neanche ci vedeva Poverina Aveva gli occhi chiusi Tra un po' E quindi Stava cercando Di aprire il balcone Per poter respirare Ha invocato aiuto Quindi Che possa essere Stata colpita All'improvviso E che non ci siano Segni di collottazione In casa E che questa sia Una prova Che non è salito nessuno Sinceramente Mi sembra assurdo Perché non ha senso E poi Quest'impronta di scarpa Si Vigile del fuoco Quale Chi Nel senso Lo dicono loro Però Non c'è scritto Da nessuna parte Che sia Né perché Comunque Al di là di questo I punti Secondo me Sulla Sulla Cherubini Più Conturbanti Sono altri Ovvero Ci sono Queste tracce Sul portoncino Di uscita Va bene Però Non è sintomo Che qualcuno Debba essere uscito Per forza di lì E' altrettanto possibile Che magari ci siano stati Secondo me Io l'ho pensata così Degli aggressori Che magari hanno tentato Di uscire da lì Abbiano magari toccato Questa maniglia Però O a un certo punto Hanno sentito La Cherubini urlare E quindi Siano risaliti Per finirla Perché non potevano Lasciare qualcuno in vita O magari perché A quel punto Avevano visto Giungere dei soccorritori E non sarebbero Più potuti uscire Ma erano solo provato Quel portoncino E' stato toccato E' stato macchiato Ma le ipotesi Le possibilità Sono tante Anche perché Comunque I soccorritori Sono scesi Con frigerio Che immagino Fosse pieno di sangue Sono usciti da lì Quindi Ricordiamoci anche Che in casa Castagna C'è il sangue Della Cherubini Cosa ci fa Il sangue Della Cherubini In casa Castagna C'è del sangue Da schizzo Su un muro Della Cherubini Che secondo me E' plausibile Che qualcuno Con un'arma in mano Sia sceso Entrato in casa Castagna E Nella concitazione Abbia lasciato Uno schizzo In casa della Castagna Perché se no Perché se no Non me lo spiego Come non mi spiego Le tracce di sangue Sul balcone Della Castagna E le tracce di sangue Perché se si parla Di tracce di sangue Si parla di prove In un certo senso Che ci possono far capire Come può essere andata Una dinamica In camera Di Raffaella Castagna In camera Di Raffaella Castagna Ci sono delle tracce Di sangue Da schizzo Sul mobile In giro Queste macchine di sangue Cosa ci fanno lì Se E' stata aggredita Sulla porta E' trovata Sulla porta E' possibile Che qualcuno Fosse lì Che lo aspettava Che lei sia entrata In camera Magari abbia posato Qualcosa E l'abbiano colpita lì E che abbia cercato Poi di scappare Verso la porta E che si è stata finita Verso la porta Perché ci sono anche Delle tracce di sangue All'interno Della porta Della Castagna Quindi sembra qualcosa Che è avvenuto Dentro Anche Può essere anche Che le persone Che l'abbiano aggredita Comunque in qualche modo Non si aspettavano Di avere Due vittime In più Quindi magari Dentro Quell'appartamento Era un attimo Nel panico Cercare di capire Da dove scappare Magari Comunque Io Ci sono altre cose Che mi tornano pochissimo E voi mi dite la vostra O magari Stavano Le stavano Aspettando Già dentro casa Può essere Sì A questo punto Infatti Adesso Le ultime Testimonianze Le ultime ricostruzioni Dicono che probabilmente Erano più di due Per quella Che è la nuova traccia Che si sta seguendo Si sta cercando Di seguire Comunque Lo sapete Cos'è Che poi a me Torna meno In tutta la storia In tutta la storia Quello che mi torna meno È la questione Lavanderia Cioè Non ci sono tracce Che portano Dal portone Alla lavanderia Ma quello è Pacificamente Comprensibile Perché Quella zona È stata Completamente Invasa dall'acqua È stato detto E comunque Avrebbero potuto Togliersi le scarpe Anche prima di uscire Benissimo Ci sta Però Allora Immaginiamoci La situazione Voi prendete Due persone Che ancora Devono cambiarsi E quindi Sono intrise Di sangue L'azione del cambiarsi Devono anche Farla abbastanza In fretta Perché a quel punto Lì Sì Che sono arrivati Magari Soccorritori Vigili del fuoco Eccetera Il rischio Di essere visti È molto alto Le ponete In una lavanderia Che Vero che C'ha questo Tappeto Di tela In terra Ma questo Tappeto Innanzitutto Prima cosa Non è impermeabile E poi Mi caricopre Completamente Tutto il perimetro Della stanza In ogni centimetro Quadrato E me le rendete Capace di Non calpestare Un frammento Di pavimento Per non lasciare Mezza traccia Ma anche se Si fossero elevate Le scarpe Avrebbero sgocciolato Da qualche parte Punto Perché Quattro carotidi Cinque carotidi Non le recidi Senza farti Completamente mezzo Poi Poi Ti togli Maglia Pantaloni E tutto Molto velocemente Ti devi sbrigare E non fai schizzare Una goccia di sangue Intorno a te Perché devi fare Velocemente Ti cambi D'abito Però Non ci sono Schizzi sul muro Non ci sono schizzi Sulla lavatrice Non ci sono schizzi Per terra Da nessuna parte Inoltre Inoltre Tu Devi cambiarti D'abito Quindi devi far passare I colletti Dai capelli Quindi O ti sei vestito Completamente di nero E non si vede nulla Però non devi sporcare Neanche i vestiti puliti Che ti stai mettendo addosso E a questo punto Olindo e Rosa Avevano presumibilmente Il volto E i capelli sporchi Di sangue Infatti stando alla ricostruzione Poi Olindo Fa cadere proprio una goccia pura Proprio dai capelli Quindi fai passare Questi indumenti Per il colletto Senza macchiarti minimamente I vestiti puliti Li fai entrare In macchina A questo punto Loro non si sono ancora lavati Si sono solo cambiati d'abito Però tra Cambiarsi d'abito E lavarsi dal sangue Ce ne passa Ce ne passa tanto Dopo aver Sempre reciso Scannato Cinque persone Ripeto E le fa entrare in macchina E in questa macchina Non c'è Una singola Traccia Di sangue Da nessuna parte E poi Presumi Perché secondo la ricostruzione Ufficiale È pacifico Che sia avvenuto questo Che si vanno A lavare Quindi prima erano sporchi In un lavatoio Al cimitero Però loro sono riusciti A fare tutto questo Senza macchiare niente In giro Né nella lavanderia Né nella macchina Né da nessun'altra parte Né presumibilmente I vestiti che si erano cambiati Velocemente Nella lavanderia Perché poi Sono andati a mangiare Al McDonald's O erano vestiti Come la banda Bassotti Oppure Non si sono macchiati Minimamente I vestiti Che si sono fatti passare Presumibilmente Da dosso Va bene che uno Dici aveva i guanti Ma che cacchio C'è Che poi Il fatto è che Se ci pensate Tutto quello che succede Da l'uscita Di casa E l'arrivo Al McDonald's Quello che è Tutta supposizione Cioè Non c'è Uno straccio Di prova Che dica Che si sono cambiati Così Che si siano lavati Al lavatoio Che abbiano buttato I vestiti E le armi Nei cassonetti Cioè Sono tutte supposizioni Non c'è Una prova Di tutti questi movimenti A me questo è quello Che mi lascia più perplessa Perché Per come possa essere avvenuta Questa cosa In una manciata di minuti Perché loro A quel punto Dovevano andarsene Perché poi sono arrivati Vigili del fuoco Gli lidiamo cinque minuti Sì Gli lidiamo Tre, quattro, cinque minuti Ma in tre, quattro, cinque minuti Comunque tutto sto Ambaradam Di soglirti i vestiti Metterli dentro il tappeto Ritirare sul tappeto Metterlo dentro la busta Andare in macchina Senza lasciare traccia Da nessuna parte Dopo aver ucciso Tutte quelle persone Che comunque Era un sforzo fisico Dopo aver inalato Tutto quel fumo Cioè Un attimo Per riprenderti Forse Ti serve Secondo me Questa cosa È abbastanza fantascientifica Io non riesco a immaginare Come possa essere successa Sinceramente È solo questo Perché poi Per il resto Ci sono tanti punti Che effettivamente Uno può dire Può essere andata In un modo In un altro Però questa roba Sinceramente Io Faccio fatica A capirla Le persone Probabile Sono state viste Intorno a casa Probabilmente Hanno avuto Magari sì Se sono passati Da un'altra parte Il tempo Di andarsi A sporcare Dentro una macchina Che non sappiamo Che tra l'altro Che tra l'altro In sentenza È pure scritto Sottile Il sangue Trattato Quello Cioè Sì In sentenza Ma non essendosi trovato Hanno potuto solo Immaginarselo Io In un modo Del genere Farei diverso Metterei lo scotch Di carta Qualche strato Di Di cielo Fanno Per Come copertura Quando Pitturi muri Più strati Attaccati Con scotch Di carta Attaccati Ai muri E quelli Lì sì Non Più che E magari Anche un'altra Copertura Sopra Cioè Quello che c'è scritto Della cosa Di telo Bianco E la grandezza Quello Se non esiste Se non l'hai mai visto Non lo puoi Non puoi dire Con certezza Di che materiale Era fatto Puoi dire Cioè Io me lo immagino Me lo immagino Diverso Me lo immagino Diverso Sì Non di tela Ma comunque Appunto È immaginazione Perché non è una prova Non è mai stato trovato Quindi Invece Quelle che potevano Perché specificarlo Perché specificarlo Perché non bastava dire Solo Con Una copertura Impermeabile Una copertura Impermeabile Non lo capisco Perché hanno dovuto Specificare questa cosa Poi Anche perché Poi Quelle che erano Delle prove Delle tracce Magari da seguire Sono state Completamente ignorate Tipo quella Sul terrazzino In cui Teoricamente Sarebbero potute Scappare I colpevoli C'è una macchia Di sangue Là dietro Perché nessuna L'hanno lasciata lì Cioè Buona Invece Quella poteva essere Una via di fuga Non per Rosa e Olindo Perché non sarebbero Riusciti a saltar giù Da quel terrazzino Però Per persone Più Giovani E più agili Era una buona Via di fuga E se E se invece Ci fosse Una terza via In cui comunque I coniugi Sapevano qualcosa Di più Oppure Che ne so Erano stati Anche Cioè La butto lì È ipotesi Banalmente Pagati Per O minacciati Di Di non farsi trovare In casa Dalle ore Tot Alle ore Tot In qualche maniera Sapevano Che erano coinvolti Loro Cioè Che sarebbero stati coinvolti Raffaella Castagna Sarebbe un po' in linea Con quello che ha scritto Lindo Nella Bibbia A un certo punto Quando ho fatto intendere Che Sarebbero Non lo so Non lo so Mi verrebbero a chiedere Perché loro Anche a Rosa Che dice Ma noi non abbiamo fatto niente No Quando incontro Lindo Mi verrebbe da dire Perché loro E non La famiglia sotto Di Siriani E la famiglia Frigerio Perché magari Sapevano già Che lo Cioè È una roba Machiavellica Ma chi Gli ha uccisi Se non fossero stati Cioè Nell'ipotesi in cui Rosa Lindo Siene innocenti Ma chi gli ha uccisi In qualche modo Ha voluto Ha coinvolto Minacciando Pagando Non lo so Ha coinvolto I I romano Che quindi Sono Si sono allontanati Ma non perché Volevano Cioè Io la storia Del McDonald's Del McDonald's Alle nove e mezza di sera È rimasta proprio Sello stomaco Non l'hai digerita Cioè No È È È strano Anche come l'hanno raccontata Da sera Adesso prendo la macchina E vado al McDonald's A prendermi Ma non posso Perché sono un celiata Però E Vabbè Prendi Senza il pane È È Brutta rinuncia Sì Ma Tu sei Cioè Tu sei giovane Io Di Uscire Cioè Una coppia Dovevano svegliarsi presto loro Si lamentavano Cioè Ritorniamo all'ipotesi Che stavo Enucleando Insieme Con voi Quindi loro In qualche maniera Sono stati allontanati Perché poi Volevano essere coinvolti Cioè Perché poi C'era tutto calcolato Che avrebbero In quel punto loro Non lo so Magari per sta Questa storia Della causa Che c'era Quindi queste persone X Sapevano Che c'era questa causa Che dopo Da lì a pochi giorni Ci sarebbe stata Una Un suo sentenza Un appuntamento Al tribunale E questa cosa qua L'hanno Usata come movente Cioè E quindi hanno In qualche maniera Fatto allontanare I coniugi romano I quali Non potendo Raccontare Che sono stati Minacciati O pagati Per farlo Considerato Quello che poi Era successo Quindi Si allontanano Da lì Per tornare All'ora Più o meno Stabilita E Veramente Non sanno Cos'è successo Guarda Io penso Che Se Ma non sono Andati Al mcdonald Volontariamente Perché Sotto Minaccia Sono andati È più credibile Che qualcuno Gli abbia detto Allontanatevi Dalla casa E inventatevi Voi una scusa Per cui Vi siete allontanati E loro Si fanno Si inventano La scusa Se la ricostruiscono Proprio In quel momento Cioè Il loro alibi È subito È quello Dichiarato È quello Sono andati Mi sono usciti Per andare al mcdonald A Como E prima abbiamo guardato Le vetrine Cioè Sembra una scusa Inventata prima Dai Non è tanto Credibile A dicembre Se queste due persone Sono innocenti Hanno passato Tanti di quei momenti Di disperazione Dal momento Dell'accusa Dell'arresto Fino a Oggi Secondo me Sarebbe uscito Anche perché Hanno parlato parecchio Non è che si Sono trattenuti Dopo che Si sono detti Innocenti Perché a quel punto Se sei in prigione Cioè Dici vabbè Facci in un momento Sono protetto Anche perché Penso che In quei momenti Lì Ripeto In quei momenti Di disperazione Forse a un certo punto Dici vabbè A questo punto Ammazzatemi C'è da dire Però che in prigione I messaggi Li possono far arrivare Sì no Però se per dire Sperare Anche perché Poi ricordiamo Che i due Si sono lasciati Quindi non hanno Neanche più Diciamo Il supporto L'uno dell'altra E Non lo so Sai che non lo sapevo Sì si sono lasciati Non stanno più insieme C'è separati La storia d'amore Finita Divorziati ufficialmente Non lo so Non penso Non so Non sono divorziati Non lo so Però non sono più No perché per Ci sono i permessi matrimoniali Quindi comunque Anche se erano In carceri diversi Loro potevano Quei permessi matrimoniali Si potevano vedere Una volta al mese Sì Non so Erika Se tu hai informazioni diverse Però So che Quei permessi matrimoniali Ci si può vedere Se entrambi Sono detenuti Probabilmente Non è così Immediata la cosa Allora Rosa Bazzi Lascia un indoromano Per una nuova fiamma Ah ok Alla scintilla Si spegne molto presto Lui muore Lei sembra essere impazzita Questo è il 10 febbraio Del 2021 Leggo dai tabloid Non so So che si sono lasciati Non so quanto Possono essere affidabili Queste No perché Per cui Ti chiedevo Se era ufficiale Cioè Perché comunque Loro essendo sposati Legalmente Se ti separi O divorzi Devi Anche se sei detenuto La cosa diventa pubblica Nel senso che Cambiano Pure se sei detenuto Ti cambiano Lo status Legale Vabbè Comunque Al di là Di questa Gossippata Sulla loro situazione Sentimentale O meno Che vogliamo fare? Vogliamo concludere qua? Ah Sa che sono andate lunghe Sì Siamo a Un'ora e 28 Ma Non è finita qui Cari ascoltatori No no Allora Ve lo anticipiamo qui Ci sarà Da decidere Ma Chi Chi ci ascolta In tempo reale Avrà il tempo Poi per guardarlo Sulla pagina E sul gruppo Lo pubblicheremo E ne daremo Informazione Sia su Instagram Che su Facebook Che su YouTube Penso che si possa anche fare Comunque Ci sarà La live Faremo una live Quindi Insieme a tutti voi Su YouTube Questa volta Abbiamo già fatto Una live Su Instagram Questa volta Troviamo un canale Diverso Quindi live Su YouTube Dove Interagiremo Potete farci domande E Sarà la puntata Diciamo Finale Di considerazioni Domani La puntata Live Sul caso Di erba Quindi L'argomento Sarà ancora Quello Poi Se si parla Anche di altro Si sa Che a me piace Divagare Certo Poi abbiamo Un pochino Da parlare Di queste Piste Alternative Esatto Parliamo In live Esatto Che sono anche Una delle ragioni Per cui è stato Cesto Di riaprire Il caso Quindi Quella della pista Alternativa È una cosa Importante Di cui Parlare Allora In live Parleremo Di quello Inizieremo Da quello E poi Spazio libero Considerazioni Vari Domande Commenti Considerazioni Quindi Vi aspettiamo State Connessi Come si dice Che Vi daremo Presto Informazione Dobbiamo ancora Capire bene Noi Tecnologicamente Come fare Ma Ce la faremo E Quindi Vi ringrazio Per averci Ascoltato Fino a questo Momento E ringrazio Erika E Marta Grazie a tutti Alla prossima Alla prossima Ciao Ciao